Sta vincendo la Francia 1 a 0 un autogol di Homeless per cercare di fermare, cercava di fermare Mappé che è incontenibile, come incontenibile sembra questa Francia in teoria più, perché in realtà gioca pari a memoria la squadra di Deschamps, molto bene anche Popgaard, non ti diamo una parola per Popgaard, diciamo poi Varenne che dirige la difesa in modo impeccabile, la Francia si è meritata, ma Kanté è il giocatore della Germania Everett, la vinta la grande francese, assolutamente Kanté è determinante. Grazie a tutti.